Buona giornata amici e bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi lunedì 5 giugno 2023 inizia una nuova settimana, il tempo è cambiato, lo vedremo subito con le previsioni del tempo, ha rinfrescato un pochino, un po' di pioggia, comunque il weekend è stato quasi salvato. Ne parleremo dopo, ora intanto passiamo all'almanacco del giorno e vediamo la grafica che ci propone San Bonifacio. San Bonifacio era inglese e visse tra il VII e l'VIII secolo. Il Papa gli affidò l'evangelizzazione della Germania e lo fece arcivescovo, fu anche arcivescovo di Magonza. E lo ammirò soprattutto per il suo zelo con cui annunciava il Vangelo. Morì purtroppo martirizzato, ucciso da un gruppo di idolatri insieme ad altri sacerdoti, anche loro appunto assassinati. Questo è San Bonifacio. Le previsioni del tempo, come dicevamo, vediamo che al sereno e alle buone temperature dei giorni scorsi si è vicendato un tempo instabile, con piogge anche a carattere temporalesco che possono così avvenire, soprattutto nel pomeriggio. Possibili sconfinamenti anche di queste piogge, di queste nubi pesanti anche sulla costa. Sulle coste spireranno i venti con una tensione debole da est, mentre nell'entroterra un po' spostati da sud-este. Le temperature rimangono presso a poco quelle 17-22 gradi, con una leve diminuzione per quanto riguarda le temperature massime. Il mare è calmo. Allora, le notizie. Vediamo subito le notizie a partire dal Corriere Adriatico, sulla pagina di Fano. Ovviamente la prima pagina è dedicata tutta alla visita del ministro Francesco Lollobrigida ieri nella città della Fortuna. Due avvenimenti importanti. La azienda, una delle aziende più note delle marche, la Trevalli, che opera nel settore lattiero-caseario, ha festeggiato i 60 anni di età e lo ha fatto proprio organizzando un convegno al TAG Hotel di Fano. Sono intervenute molte autorità, tra cui appunto il ministro Francesco Lollobrigida, che è il ministro dell'agricoltura, della pesca e delle strutture alimentari. Dunque un ministro proprio ad hoc, che si occupa del tema, del settore in cui opera anche la Trevalli. Vediamo la Trevalli, una azienda importante, il cui successo è dovuto all'idea originaria, quando nel 1980 ebbe l'idea, dopo essere costituita, dopo essere stata costituita negli anni 60, abbia l'idea di unire molte cooperative che operavano nella nostra regione, come per dire che l'Unione fa la forza. E questa Unione ha avuto veramente successo, perché ora Trevalli opera in sei regioni e ha un fatturato di circa 245 milioni, tre valli, ha 60 anni di crescita. È il terzo gruppo caseario italiano, le richieste del presidente Cimarelli al governo, ovviamente sono quelle di tutelare queste aziende, che danno non solo lavoro a tante persone, ma salvaguardano anche il territorio, consentendo appunto agli agricoltori, agli allevatori, in questo caso allevatori di mucche, ma allevatori anche di pecore, da cui poi si estrae il latte, di restare nel territorio. Un altro settore che ha beneficiato della visita di Lolo Brigida è stato invece quello della pesca. Sì, perché il ministro è intervenuto nell'ultima giornata del Brodetto Fest, un nebrodetto che quest'anno ha così proposto, apposto diciamo alla ribalta, molti temi importanti, molti temi critici che in questo momento inferiscono sul settore della pesca. Primo tra tutti i provvedimenti che la Unione Europea sta prendendo ai danni, così dobbiamo dire, dei nostri pescatori, perché i provvedimenti di limitazione dello sforzo di pesca interessano in modo particolare l'Adriatico e poi anche tutto il Mediterraneo. Di qui l'impegno del ministro appunto di tutelare i nostri pescatori, impegno che è stato rinnovato anche dal onorevole Mirko Carloni, presente appunto all'incontro insieme poi al presidente della regione Acquaroli e a molte altre personalità per far sì che appunto non si proceda, Carloni poi è anche presidente della Commissione Agricoltura che nei prossimi giorni esaminerà il provvedimento dell'Unione Europea affinché non si proceda alla sospensione e alla morte della pesca a strascico. Pesca un alto là del ministro all'Unione Europea. Tuteleremo le nostre marinerie, ha detto. L'Olo Brigida al Brodetto Feste stigmatizza l'ultimo provvedimento contro la pesca a strascico. E poi due parole anche per quanto riguarda il Brodetto Feste. Una manifestazione che si è conclusa ieri dopo quattro giorni di attività sul lungomare del Lido a Fano con tante presenze, i particolari saranno poi resi noti oggi dalla organizzazione che evidenzierà i numeri del Brodetto stesso. Comunque la prima impressione è quella di aver notato tanti giovani, tante persone a frequentare il lungomare a tratti appunto da questa manifestazione. Ed ora cambiamo notizia. Vediamo a Fossombrone. Sono state consegnate 88 borse di studio dalla Banca di Credito Cooperativo del Metauro, assegnate in tutto 33.000 euro. La Banca di Credito ha consegnato appunto 88 borse di studio riservate ai soci e ai loro figli e a quanti si sono diplomati e laureati nel corso del 2022 per un valore di oltre 33.000 euro. Prima della cerimonia i ragazzi hanno partecipato ai laboratori maestri e maestre di buona finanza organizzati appunto dall'Istituto di Credito. E quello della concessione delle borse di studio è un po' un provvedimento che viene replicato, che viene assunto, che viene organizzato da anche altri istituti di credito e si rinnova di anno in anno, quale un passaggio di testimone e anche di educazione, di crescita per i ragazzi per quanto riguarda la cooperazione e anche in questo caso il credito cooperativo. Come combattere le dipendenze tecnologiche? Ebbene è un tema che sarà sviscerato questa mattina alla Rocca Malatestiana dalle 9 alle 12.30 a Fano. Si svolge in questo caso l'evento finale di Digitale e Territorio, un percorso di apprendimento che è stato organizzato per acquire le competenze del mondo digitale. Si tratta di un'organizzazione effettuata dal Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell'Azienda Sanitaria Territoriale Marche Pesaro Urbino e in collaborazione con le cooperative sociali Polo 9, Nuovi Orizzonti e Labirinto. Quindi anche questa è un'interessante iniziativa per mettere le persone al passo con i tempi. Parliamo anche di un successo ottenuto dalla Bocciofila di San Cristoforo, una delle eminenti, preeminenti volevo dire, associazioni sportive che operano in questo campo della città di Fano. Ebbene è stata promossa in Serie A2, una cavalcata trionfale con otto vittorie e quattro pareggi da parte della Bocciofila che ha in sé sia gli anziani che i giovani. Volevo mettere appunto l'accento sui giovani. Ed ora passiamo a Cantiano. Cantiano veramente è una città martirizzata dal maltempo. Distrutte le opere post alluvioni, il territorio non è in sicurezza. Un nuovo temporale, un nuovo nubifraggio che ha creato molti, molti danni. Poi li vedremo anche sulle Monte Catria. Il territorio non è in sicurezza. In questo caso si sono distrutte tutte le opere provvisorie che erano state realizzate per sanare i problemi che si erano creati dal precedente Fortunale. Il massiccio del Catria non pagherà il prezzo dell'indifferenza. Anche perché la luce del moltiplicarsi degli eventi estremi, la montagna, che è uno storico volano dell'economia del compressorio, sta mostrando veramente tutta la sua fragilità. Sembra lì un monolite annoso, un monolite che sta lì fermo, blocco da secoli. In realtà è molto, molto fragile. E quindi ci sono nuovi danni, nuove cicatrici lasciate dal maltempo. C'è stato un vortice temporalesco, sabato scorso, che si è concentrato sul triangolo tra Acquaviva, Tenetra e Valpiana, fino a fare franare in quest'ultima località il pendio e quasi cancellare l'anfiteatro naturale che si era realizzato. Ebbene, questo ha distrutto tutti i lavori che erano stati fatti per sanare i danni del 15 settembre scorso e bisogna ricominciare da capo. Vediamo anche la pagina di Senigallia, dove purtroppo si registra un lutto per un incidente stradale. Schianto, mentre va a beach tennis, vola dallo scooter, muore a 41 anni. Si tratta di Gabriele Tarsi. Gabriele Tarsi era un ragazzo di ripe di Tre Castelli, che è stato vittima di un incidente che si è verificato a Brugneto di Senigallia, all'altezza dell'officina Mandolini, intorno alle ore 19. È morto appunto per un tragico incidente. È caduto, è andato a sbattere contro un palo e purtroppo l'urto è stato mortale. Il centauro avrebbe perso il controllo in prossimità di una curva. Lo scooter è volato in un campo, mentre lui è stato sbalzato dal Sellino e i primi soccorritori purtroppo hanno notato che lui era molto grave. È stato trasportato in Aspodale, prima al pronto soccorso di Senigallia, poi al Torrette di Ancona, dove le sue condizioni sono peggiorate rapidamente e purtroppo è deceduto. E poi dobbiamo anche registrare un episodio di vandalismo che si è verificato nell'ultimo weekend. Vandali scatenati, rovesciate due panchine, ma due panchine di cemento che sono molto molto pesanti. Quindi ci è voluto un concorso di forze non indifferente per procurare questi danni. Quindi anche con molta determinazione c'è stato appunto questo atto vandalico. Sono due panchine di piazza Garibaldi che nella notte, tra sabato e domenica, qualcuno si è divertito a cambiare, si è divertito a sradicare. In più è stata cambiata anche la data nella iuola che evidenzia il calendario del giorno. Anche questo è un danno che hanno voluto fare così tanto per divertirsi, magari per coprire la noia, ma in realtà procurando poi anche danni di carattere economico. Vediamo anche un altro articolo che riguarda il maltempo. Per quanto riguarda Fabriano, anche qui si sono verificati molti danni. Il maltempo non concede tregua, nubi fragi ancora, danni e frane temporali ad attigio. Le strade cedono, le strade purtroppo sono molto molto fragili. La sindaca di Fabriano, i terreni non assorbono più e anche i treni sono in ritardo. Ora passiamo alla pagina regionale dove si evidenzia un delitto. Un delitto questa volta compiuto da una donna nei confronti di un uomo. Si tratta di Alessandra Galea, di 50 anni, che è stata arrestata per omicidio volontario. Mi sono solo difesa, ha detto, dopo esser stata accusata di aver ucciso il suo compagno colpendole con una lampada. Nove anni fa la sorella massacrò la madre con un calcio di un mitragliatore da Softair, ma non fu condannata perché riconosciuta non sana di mente. Fausto Baldoni è la vittima di questo nuovo omicidio. Era un operaio, è stato più volte colpito alla testa, è stato trovato morto in casa. Litigavano spesso, quindi probabilmente l'origine di questo atto è stata una nuova lite che è giunta all'esasperazione. Qui vediamo anche un ritorno su questo incidente dai concorsi da Miss. Queste vediamo le due sorelle, le due sorelle Galea, in posa dopo la vittoria in un concorso di Miss che si è svolto nel 2005. Il destino delle gemelle, Consuelo, prosciolta, come abbiamo detto, per vizio di mente, era la sorella di quella che ha compiuto l'ultimo omicidio. E poi parliamo ancora di maltempo. Grandine e Saette, sei cavalli folgorati sul Monte Catria. Uno dei tre puledri è morto, schiacciato dal peso della giumenta che la stava allattando. Eccolo qua, purtroppo, una foto veramente drammatica. Il puledrino che è rimasto schiacciato dal peso della madre che è stata colpita da un fulmine e purtroppo è crollata a terra, soffocando, schiacciando appunto il puledro. Tre giumente, tre puledri, uno ritrovato schiacciato. Tutti appartenevano alla storica razza marchigiano, cavallo del Catria. Sono morti, falcidiati dai fulmini, sabato o pomeriggio, vittime innocenti di un vortice temporale. Erano all'aperto e non hanno fatto in tempo a ripararsi. Vediamo anche un tema che ripropone l'agricoltura. Con la biorigenerazione le marche sono pioniere nell'agricoltura del futuro. Vi ricordate il progetto del settore bio che aveva preannunciato Assessore regionale Mirko Carloni. Prima di fare un salto in Parlamento, ebbene, ora c'è un progetto che viene cofinanziato dal PSR della Regione attraverso tre bandi. L'esperto Bisogni afferma rendere i terreni resilienti ai cambiamenti climatici. Occorre appunto irrobustire i terreni affinché non si verifichino più i disastri che si stanno realizzando giorno dopo giorno. Ed ora centriamo la nostra attenzione in modo particolare su Pesaro, dove si parla di emergenza abitativa. All'oggi 300 le famiglie in emergenza abitativa e 250 case da sistemare. Ogni tanto si fa un focus sulla stampa per quanto riguarda la situazione abitativa. Ci sono veramente tante persone che hanno bisogno di una casa, ci sono tante case da porre in affitto, ma queste non vengono messe sul mercato. Diamo un'occhiata anche a questa tabella che è molto esplicativa. I numeri dell'emergenza, eccoli qua. Per l'Unione Inquilini della provincia, su un totale di 3.208 alloggi popolari, sono 254 quelli bloccati perché sono da ristrutturare. 17 poi sono le case non disponibili per rintralci burocratici. Insomma, avere casa pronta e non poterla segnare perché c'è un problema di carattere burocratico, veramente è una cosa non commentabile perché altrimenti ci sarebbero delle parole molto brutte. L'Erap ha stimato una spesa pari a circa 4,8 milioni di euro per ristrutturare 254 case della provincia. Sono le 254 di cui abbiamo detto sopra. Però ancora queste cose non è stata fatta. Gli sfratti, parliamo degli sfratti, nel 2022 hanno superato quota 150 a Pesaro. Nelle Marche ci sono 15.874 alloggi popolari, alcuni di proprietà dell'Erap, altri di proprietà dei comuni che comunque le mettono a disposizione dell'Erap in quanto l'Erap poi ne fa la gestione, però necessitano di lavori di sistemazione. Sono 845 quelli che sono da ristrutturate. Per il 2023 è stato confermato il fondo della regione per fronteggiare l'emergenza degli inquilini morosi incolpevoli. E sappiamo chi sono gli inquilini morosi incolpevoli. Sono quelli che hanno pagato sempre l'affitto. Poi a un certo punto hanno ricevuto uno di quelle batoste, così possiamo dire, che il destino riserva ogni tanto a macchia di leopardo, perdita del lavoro, malattie, eccetera, e non riescono più a pagare l'affitto. Non appunto per loro volontà, ma proprio per l'evenienza che si è verificata. Ebbene, non c'è tregua per la famiglia Moneti che doveva avere da una parente e un appartamento, ora è in una sistemazione provvisoria, ma sembra che tutto si ricominci da capo, perché questo appartamento non è stato più messo a disposizione. Per Alessandro, nuovo incubo casa, saltato il contratto d'affitto. La famiglia del giovane disabile doveva entrare dal primo giugno. In realtà questo non si è verificato ed ora si confrontano gli avvocati. Due ragazzi si baciano in un locale, insulti e minacce, gay fate schifo, aggrediti da un gruppo di altri giovani, poi fuggiti prima dell'arrivo dei carabinieri, chiamati dal titolare. Ebbene, che cosa è accaduto? Anche qui un episodio di intolleranza, vorrevo dire di razzismo, ma il gay non è una questione di razza, è una questione di educazione. Si sono baciati in un locale pubblico, di fronte ad altri avventori. Era un episodio d'amore, non era altro, un gesto d'affetto che solitamente suscita tenerezza. Invece sono stati aggrediti verbalmente, in modo pesante, da un gruppo di ragazzi, perché quel bacio è stato scambiato tra persone dello stesso sesso. Due ragazzi. È la reazione di un gruppo di altri giovani presenti, purtroppo coetani, quindi voglio dire, non è che magari era un anziano che aveva in testa dei pregiudizi o una mentalità superata. No, no, erano giovani, erano giovani che conoscono benissimo come va il mondo, soprattutto conoscono la loro età. Ebbene, è successo la sera del 2 giugno in un locale della zona Torraccia. Era un giorno di festa che però si è trasformato in un giorno brutto, sia per la coppia di giovani che è stata insultata, sia per loro stessi che poi devono rispondere di quanto è avvenuto, perché sono intervenute le forze dell'ordine. Sanità, istituite le zone svantaggiate, maggiori servizi nei tre ex ospedali. Ebbene, una buona notizia. Fossombroni, Cagli e Sassacorvaro tornano i punti di emergenza urgenza e le degenze. È il primo parziale riscontro delle promesse che sono state fatte durante l'ultima campagna elettorale per le regionali, anche se si tratta sempre di parole che dovrebbero essere poi verificate dai fatti. Comunque la prospettiva politica amministrativa non è quella della riapertura di questi ospedali, ma è quella di istituire almeno dei punti di emergenza urgenza e anche le degenze per sopperire appunto ai casi che è possibile così curare nel territorio senza poi magari trasferirli negli altri ospedali. Vediamo anche la pagina di Urbino. Sit-in a tutela del paesaggio storico. Urbino non merita una discarica. C'è stato un flash mob alle 19.30 di fronte ai Torricini. Domani il documento delle opposizioni in Consiglio. Ovviamente si contesta la discarica di riceci. Molte risposte sulla difesa del paesaggio storico. Urbino ha un valore aggiunto, non solo il palazzo rinascimentale, non solo la sua magica atmosfera che ricorda gli anni più belli della rinascita dell'arte e della cultura appunto del Cinquecento, ma anche un paesaggio bellissimo da ammirare che non deve essere guastato, che non deve essere minimamente, diciamo così, oltraggiato. Ed ecco perché appunto c'è questo sit-in da parte dei residenti. Voglio segnalarvi la prima pagina del resto del Carlino dove in evidenza si tratta il delitto che è accaduto a delle due gemelline che hanno ucciso appunto il convivente di una gemellina che ha ucciso il convivente che aveva con sé e poi la sorella che aveva ucciso la madre è posta. Qui vediamo in prima pagina e poi anche uccide il compagno dopo un'alite Fabriano arrestata la cinquantenne, l'ha colpita con un abajur appunto. Vediamo qui Alessandra Galea e qui la sorella che aveva ucciso la madre. Vediamo anche come poi si rievoca la visita di Lolo Brigida a Fano e la strage di cavalli sul Catria uccisi dai fulmini. Sono le notizie di cui abbiamo parlato anzitempo. E questo per il momento è tutto. Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Grazie per l'ascolto. A risentirci. Grazie per l'ascolto.